Ragazzi, volete venire a vedere le stelle con me? Andiamo insieme con Unistellar Hibscope. Andiamo a scoprire insieme il nostro Unistellar Hibscope che è il telescopio più innovativo e potente al mondo. Innanzitutto partiamo da dove nasce? Nasce in Francia da degli scienziati di Marsiglia che lo hanno progettato proprio per renderlo massimamente performante rispetto ai telescopi tuttora in vigore. Come funziona? Funziona in maniera molto molto semplice perché ha un unico tasto di accensione il quale gli permette di creare un suo segnale wifi al quale dovremmo poi agganciare il nostro smartphone o il nostro tablet e successivamente entrare nell'applicazione. L'applicazione ci permetterà di cliccare, di scegliere le comete, le nebulose o i pianeti e molto altro ancora che noi desideriamo e Unistellar punterà nella loro direzione. Quindi per tutti gli appassionati di astronomia, per tutti gli appassionati di stelle o anche per tutti coloro che magari hanno la creatività di organizzare degli eventi nei quali si può guardare il cielo da un'altra prospettiva e in maniera ultra innovativa, Unistellar è sicuramente la soluzione ideale a queste esigenze. Ovviamente per utilizzarlo è sempre meglio trovarsi in una posizione che sia isolata da eventuale inquinamento luminoso, quindi ad esempio un giardino piuttosto che un rooftop piuttosto che un terrazzo, così da poter avere la visuale migliore possibile. Ora che abbiamo visto le sue funzionalità non vi resta che andare sul nostro sito www.webidu.store e acquistare il nostro innovativo Unistellar.